6 mesi di amministrazione, oggi un bilancio al di là di tutti i vari progetti nello specifico, come si è lavorato? Beh, io ho detto che faccio il sindaco per questa amministrazione e basta, bisogna guadagnare il tempo perso e quindi dico, e così si muovono gli assessori e tutti i dipendenti del comune, con un notevole attivismo, che dobbiamo fare in 5 anni quello che normalmente si fa in 15 anni. Dobbiamo recuperare il passo. In questi 6 mesi abbiamo fatto più consigli comunali, più giunte, più delibere di giunte, più delibere di consiglio comunale di quelle che sono fatti sommando diversi anni precedentemente. L'attività è intensa, abbiamo aggredito tutti i problemi più importanti della città ormai, riorganizziamo il bilancio, riorganizziamo la struttura interna del palazzo, facciamo ripartire il porto, diamo il via a diversi interventi di privati che sono fermi, altri che sono arrivati in queste settimane a chiedere, e ad essere interessati a investire nella città d'Imperia, dobbiamo dar lavoro. Quindi un bilancio positivo. Pensi che nel piano triennale abbiamo inserito opere per un importo complessivo di 50 milioni di euro, e devo dire con piacere che in 6 mesi abbiamo già attivato il 75% di queste cose. Attivate vuol dire avere già i progetti per richiedere i finanziamenti necessari. Contestualmente abbiamo già incassato in questi 6 mesi 12 milioni di euro di risorse importanti per fare cose in comune significative, e crediamo di avere e di essere vicini al traguardo per ulteriori opere. Credo che entro giugno avremo più di 20 cantieri aperti. Alcuni sono aperti in questi giorni, avete visto, altri stanno per aprirsi con una serie di gare d'appalto in corso. Quindi sono soddisfatto del lavoro della mia giunta, che è una giunta di valore. Sono soddisfatto anche, direi, del clima in Consiglio Comunale. Un lavoro intenso che dobbiamo fare per dare lavoro ai nostri giovani. L'Agnesi fa parte della storia, ma non possiamo lasciare un monumento vuoto. Poteva essere condotta diversa la vicenda Agnesi, forse sì. Forse qualcosa si poteva riuscire ad ottenere, ma ormai è acqua passata. Abbiamo avuto contatti con i titolari dell'Agnesi. Abbiamo detto che lo stabilimento non può rimanere una cosa morta per decenni, come è stato per i talcementi. Che vogliamo che rimanga però una vestigia di questo stabilimento. Vogliamo che ci sia un utilizzo che serva a dar lavoro, il più diverso da valutare, ma vogliamo che siano rispettati anche gli accordi che furono presi allora con l'amministrazione precedente. È una fase ancora preliminare, ma dobbiamo riuscire in quell'area che è urbanisticamente interessante, vicino al porto di Oneglia che è molto bella e vicino a questa area del porto Franco che vogliamo acquisire al comune e siamo a buon punto con la concessione perché quell'area lì sia un'area turistica, ricreativa, dimovida, che possa dare grande sviluppo economico alla zona di Oneglia.